jungle ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e quest'oggi voglio darvi un po' di dettagli succulenti sull'annuncio di project cars 3 allora un po' tutti ne avevano parlato un po' tutti hanno parlato di questo trailer facendo dell'analisi insomma su quello che più o meno si poteva capire e carpire dal dal video io invece ho deciso di andare a scandagliare un pochettino il web per vedere insomma quelle sono diciamo effettivamente i progetti e quello che prevedono i ragazzi di slide my di studio parlando un po di storia sappiamo che il primo capitolo è uscito nel 2015 in cui si era contraddistinto non soltanto diciamo per la grafica ma anche per le buone sensazioni di guida che offriva il primo titolo con delle carenze che tutti conosciamo nel 2017 stessa cosa sono stati portati altri contenuti che hanno appassionato fin dall'inizio un po tutti il primo me nel 2017 ho fatto comunque dei video che insomma in cui parlavo in modo dettagliato di questo project cars 2 ma che presentava comunque delle carenze che alla fine non ce l'hanno fatto un po abbandonare la slide ma di studio con l'annuncio di project cars 3 annuncia anche una carriera completamente rinnovata sempre con più accessibilità nel dettaglio tramite una videoconferenza cioè baron e matt fox di slide ma di studio hanno presentato quindi questa terza parte di project cars recentemente appunto annunciata un episodio decisamente orientato verso le sensazioni e soprattutto la sensazione immersione del giocatore per questo gli sviluppatori hanno completamente ridisegnato la loro modalità di carriera iniettando punti esperienze a una nuova struttura come appunto richiesto appunto dai fan della serie di party studio includendo dei test che mettono in evidenza una selezione di auto da corsa compresa tra le dieci classi presenti con una scelta specifica di di un percorso appunto di carriera con regole che variano appunto per aumentare il piacere appunto del del giocatore del pilota in effetti la il software della banda in ampco vuole offrire più modi di progredire del solito proponendo obiettivi da sbloccare per alcuni crediti queste missioni richiedono ad esempio di raggiungere una velocità specifica oppure di superare un certo numero di avversari per guadagnare un po di punti xp la manovra ha lo scopo non di forzare l'utente a partecipare a un campionato che non gli si addice dandogli appunto accesso a delle sfide alternative quindi questo diventa un punto abbastanza interessante proprio per il percorso da seguire per la propria carriera project cars 3 vuole quindi essere ancora più accessibile del suo predecessore facendo affidamento a un circolo virtuoso di premi infatti il team della slide ma di studio insistono sul fatto che nessuna micro transazione è all'ordine del giorno tutto viene sbloccato in base alle azioni del pilota che viene premato e pregnato per correre per percorrere e soprattutto prendere i rischi che vuole prendere qui il sistema di esperienza ricorda molto quello di forza motorsport dove ogni aiuto ritirato gonfo un po di più il moltiplicatore di esperienza è il che rende la cosa molto interessante più gare esegue l'aspirante pilota più i crediti in game saranno guadagnati da spendere per nuove auto o per migliorare le prestazioni delle auto stesse da quello che ho potuto capire e vedere i menu visualizzati sono chiari e l'interfaccia sembra abbastanza ergonomica anche quando si tratta di passare del tempo nel garage per migliorare le proprie auto i menu i menu relativi al miglioramento dei veicoli sono suddivisi in diverse categorie parliamo di pneumatici freni carrozzeria aerodinamica iniezione trasmissione sospensioni e tanto altro e utilizzano un sistema di segnalazione a spunta che espongono immediatamente ciò che è stato migliorato o meno le preimpostazioni devono essere sbloccate sport e gara eccetera per per aiutare il neofita a caversela rapidamente nelle proprie impostazioni un altro punto in cui slide di ma di studio ha evidenziato insomma il suo lavoro è sicuramente la personalizzazione ed il multiplayer sappiamo bene che ci sono dei piloti che preferiscono girare in single player contro l'intelligenza artificiale un'altra parte che gira soltanto online project cars 2 sappiamo che ancora oggi ha una comunità abbastanza attiva slide di ma di studio conta proprio sui suoi fan per dare a questo terzo episodio un inizio diciamo con il turbo da ora in poi infatti l'utente alla scelta tra tre categorie quando lancerà la modalità multiplayer gioco veloce che consente di lanciarsi in una gara grazie a strumenti di matchmaking un evento pianificato dando accesso a delle competizioni organizzate da sviluppatori in momenti specifici sì per i quali è possibile avviare qualifiche e e poi il gioco personalizzato in cui praticamente siamo noi a decidere che cosa lanciare quindi tre eventi fast rapidi proprio per dare subito accesso al multiplayer ed infine una modalità asincrona chiamata rivals una sorta di estensione degli eventi della comunità con una rotazione mensile come succedeva su project cars 2 in questa modalità il giocatore può partecipare ad eventi giornalieri settimanali e mensili offerti appunto da slide di ma di studio infatti volante alla mano vi verrà chiesto di avere il miglior tempo possibile appunto in pista mentre il gioco scaricherà dinamicamente i fantasmi da battere un modo piuttosto leggibile e intelligente per mantenere la pressione di questa lotta per il miglior tempo e punteggio quindi ancora una miglioria un qualcosa in più proprio per il gioco in multiplayer per impressionare voi i vostri diciamo compagni di gara project cars 3 includerà delle opzioni di personizzazione che sono già state viste in altre serie come dicevamo ancora una volta come forza motorsport il giocatore potrà usare colori ufficiali di un produttore in particolare oppure creare le proprie decorazioni usando adesivi materiali eccetera per chi si potesse la domanda sì le gli eventi personalizzati project cars 2 saranno sempre presenti con le loro numerose opzioni numero di giri concorrenti penalità eccetera quindi infine ragazzi per per concludere perché già sono abbastanza delle notizie abbastanza interessanti le 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 intenzioni quindi di slide ma di studio sembrano potenzialmente buone per questo project cars 3 che non ha paura di deludere i propri fan portando maggiori diciamo accessibilità proprio nel campo diciamo dell'utilizzo del multiplayer della carriera ci sono ovviamente molti elementi da tenere sott'occhio come il comportamento dell'intelligenza artificiale i danni le sensazioni del di pilotaggio di di guida la fisica tutte queste robe qua che ovviamente bisognerà poter testare con una beta aperta o quello che sarà come fanno sempre le di ma di studio le ultime notizie sono che uscirà ovviamente per pc tramite steam playstation 4 xbox one per quest'estate quindi rimaniamo in attesa ragazzi c'è tanta carne al fuoco per quanto riguarda questo terzo capitolo della slide di ma di studio io come al solito vi ringrazio per avermi seguito lasciate un like se il video vi è piaciuto un dislike se non vi è piaciuto un commento perché no se avete notizie in più iscrivetevi al canale noi ci sentiamo prestissimo da fabrice è tutto ciao